Musica Serie D, il Gubbio a caccia dei tre punti nella gara interna di domenica con il Sansepolcro Rebus a formazione tra i rosso-blu, Città di Castello arriva al Bernicchi, la capolista Montecatini Sale l'attesa per il derby tra Città di Foligno e Gualdo, Casa Castaldo Domenica alle 15 su RGM, partite in tempo reale con diretta sport Alle 20.30 su TRG torna fuori gioco, ospite il tecnico del Gubbio Maggi e il DS Guaddi Sega Iardini La più cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva su TRG Il calcio in apertura, ultimi preparativi per il Gubbio in vista della gara casalinga di domenica Con il Sansepolcro, un match davvero importante per la compagine Gubbina Chiamata a tornare alla vittoria dopo due sconfitte esterne, un pari casalingo Tre variabili di formazione per Mister Maggi che avrà l'intera rossa a disposizione La prima è il 3-5-2 con Marini, Daiello e Petti in difesa Conti e Saías o Boali sulle fasce mediana Formata da Croce Romano e Tibolla con due d'attacco composto da Ferretti e Balistreri Altra idea è il 4-2-3-1 con linea difensiva composta da Conti, Marini, Daiello e Saías Coppia mediana formata da Croce e Romano con Minnozzi sulla trequarti Assieme a Ferri, Marini e Ferretti a supporto di Balistreri Ultima ipotesi è il ritorno al 4-3-3 standard Visto nelle prime uscite stagionali La sensazione è che il tecnico rossoblu potrebbe inizialmente optare per una difesa a tre Magari cambiando poi modulo a gara in corso se ci sarà la necessità di farlo Domattina è comunque prevista la rifinitura dove lo staff tecnico metterà a punto gli ultimi accorgimenti Per la sfida con i biturgenzi Grande attesa in Serie D anche per il derby tra Città di Foligno e Gualdo Casacastalda Fissato per domenica alle 15 al Blasone I Falchetti che nelle prossime ore dovrebbero tesserare anche il difensore ex Paganese a Gresta Dovrebbero essere schierati da mister Battistini con il 4-3-3 Con il recuperato Gennari in difesa assieme ad uno tra Burini e Fa per due Poi uno tra Del Colle o Giambi nel ruolo di regista con Montanari e Fiordiani intermedi Mentre il tridente sarà formato da Di Paolo al centro con Candelori e Urbanelli sulle corsie esterne In casa Gualdo Casacastalda invece da segnalare l'innesto di Mirko Palazzi Centrale difensivo classe 87 nazionale San Marinese lo scorso anno proprio alla squadra dei Titani In serie C mister Emanuelli squalificato e sostituito in panchina dal vice Bellucci Opterà anche egli con ogni probabilità per il 4-3-3 Con Fiorucci tra i pari al posto dell'appiedato Casini Tridente offensivo formato da Battistelli, Antonioni e Villanova Nelle altre partite valide per la settima giornata del girone E di serie D Da segnalare il duello tra Neopromosso e Del Bernicchi Che vede il Città di Castello affrontare Monte Catini I tifernati cercano riscatto dopo lo scivolone di Colle Valdelsa Mentre i toscani cercheranno di fortificare il sorprendente quanto meritorio primato in graduatoria Da segnalare anche l'impegno della Voluntas Spolito a caccia di punti preziosi a domicilio del Ghivizzano Altra matricola del girone E ricordiamo che domenica torna diretta a Sport in onda alle 15 su RGM Sul canale 604 del Digitale Terrestre Con la diretta delle formazioni Umbre di serie D ed eccellenza Mentre sempre domenica sera alle 20.30 torna l'appuntamento su TRG Con fuori gioco, con immagini, servizi, interviste e commenti Sul campionato di serie D appunto Tra gli ospiti della puntata L'allenatore del Gubbio, Giuseppe Maggi E il direttore sportivo del Gualdo Casacastalda Maurizio Gaiardini Protagonisti insieme nella passata stagione La splendida cavalcata della maceratese promossa in Lega Pro Due anticipi domani per la sesta giornata di eccellenza Alle 15 il Trestina cerca il primato momentaneo A domicilio della Ponte Vecchio Mentre alle 15.45 il Villa Biagio riceve il Ventinella Domenica in campo Invece alle 15.30 il Clu è lo scontro tra la capolista Subassio e l'Angelana Il Cannara cerca riscatto a Todi Mentre il Bastia del neotecnico Borrello affronta il Torgiano Il Petrignano va a Massa Martana Mentre per il Castel del Piano c'è la Narnese Chiude il turno il posticipo delle 18 tra Sanzisto e Trasimeno Serie B il Perugia Si prepara la sfida focale in casa con Lentella Fissata per domenica pomeriggio alle 15 Al fine di ritrovare una vittoria che manca dalla prima giornata Out comotto, Salifu e Taddei Senza dimenticare Zim e Parigini Impegnati con le rispettive nazionali Non al meglio Alassane che ha lavorato in palestra Con Spinazzola e Fabigno Bisoli confermerà quasi certamente il 4-3-3 Visto a Trapani schierando in difesa davanti a Rosati Volta e Belmonte centrali A destra del Prete a sinistra Rossi In mediana della Rocca Girà davanti alla difesa con Rizzo e Lanzafama e Mezzali Lasciando il compito a Zapata e Drolet di muoversi ai fianchi di Ardemagni Possibili variabili recupero di Spinazzola Che può essere impiegato sia a centrocampo che in attacco E Fabigno per cui sembra assai più probabile però l'utilizzo a gara in corsa E ripartono anche i campionati di basket In a uno femminile l'Umbertide cerca riscatto Dopo la netta sconfitta dell'Opening Day Con Lucca nella trasferta di Torino Al via anche il campionato di C regionale maschile Subi sabato in campo Umbertide Che affronta il Palamorandio e Orvieto E il basket group è atteso sul parquet di Assisi Domenica tocca invece al Gualdo Che riceve Rieti Mentre per il Foligno c'è la sfida con Todi Il volley ora domani alle 15.30 Al Pala Andrea Giovanni di Città di Castello Ci sarà la presentazione di tutte le squadre Del Città di Castello Pallavolo Che parteciperà a 26 campionati Circa 450 atleti Oltre ad allenatori, dirigenti, autorità e genitori Oltre agli atleti animeranno il pomeriggio I festanti bambini della scuola federale di Pallavolo E il mini volley Biancorosso Esternazione di una continua evoluzione Crescita di nuovi giovani pallavolisti Per quanto riguarda i primi impegni stagionali Della società Tifernate Si parte sabato 17 alle 18 Con le ragazze della serie C femminile Che ospiteranno Acqua Sparta Mentre per vedere all'opera i ragazzi della B2 Bisognerà attendere il 7 novembre Quando arriverà al Palagioan Alle 21.15 Osimo E allora noi con questo ci fermiamo Grazie per averci seguito Buon proseguimento con i programmi di TRG Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.